Da più di 15 anni attiva la Commissione di Mazzucchetti per la gestione dei controlli e degli accessi nei miei strati e in particolare il costo di riempire. Cosa chiediamo nel prossimo periodo? Certamente la Commissione di Mazzucchetti sarà una funzione negativa ed è trattata nel diverso tempo Nascendo il nostro territorio di Mazzucchetti è stato dedicato a successo nel corso di un anno in modo di costruire, costruire con i nostri eventi e quindi abbiamo garantito l'autità del costruimento dell'accesso. Cosa ci rispettiamo e cosa stiamo lavorando per le persone ma sicuramente sulla base dei progetti che abbiamo già avviato, avevo scritto l'anno passato in questo momento in cui abbiamo l'opportunità di comunicare anche la sicurezza con il servizio per l'area del servizio in termini, il tempo di attesa e il cuore dell'accesso allo stadio. Il nostro obiettivo insieme allo support in Mazzucchetti è quello di minimizzare sempre di più di appassionare il servizio per lo spianatore che entra allo stadio. Con un anno dovrò dando maggiori informazioni e maggiori strumenti per chi è il progetto con un po' di sicurezza in termini di possibilità di coordinare e controllare i grandi corsi di spettatori che poi vengono a passare. Grazie 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 Grazie